I carabinieri della Compagnia di Agropoli nel pomeriggio di ieri hanno arrestato un 37enne magrebbino per detenzione spaccio di Ashish in località Borgo San Cesareo di Albanella. I militari della stazione di Matinella nel corso di uno specifico servizio hanno pedinato e sorpreso il giovane in località Borgo San Cesareo mentre cedeva una dose di stupefacente ad un giovane della zona e successivamente lo hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare che ha portato al rinvenimento di diversi involucri di cellofan contenenti complessivamente diverse stecchette di Ashish per un peso complessivo di 64 grammi. L'arrestato dopo le operazioni di rito è stato trasferito presso la casa circondariale di Salerno a disposizione della Procura della Repubblica.